mi scusi signore ma lei è seduto al mio posto preferito avanti vieni a prendertelo quattro occhi calma ti staccato lascia perdere per favore l'ho appena rimesso a posto il locale mi è costato un occhio Occhio Il signore è servito. Questi sono per ripagarle i danni e mi scusi tanto. Sa, sono stato un po' in palestra. Salve, signor Presidente. Scusi se sono stato via per un po', ma non succederà più. Salve, signor Presidente.